Ben trovati su Ristoraggio San Marino di Radio Web in Volo, siamo qui con Gigi del Mattarello, vi ringrazio di essere qui con noi. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Intanto volevo chiedere, qual è la storia del vostro locale? Allora, il locale è nato 16 anni fa tra l'unione, diciamo, tra me e il mio ex socio ed è stato allenato soprattutto per metterci in proprio e fare il nostro prodotto, la nostra attività. Quali sono le specialità che offrite? Allora, noi facciamo soprattutto piade e cascioni. Sì. E di particolare facciamo anche, non so, piadine dentro degli hamburger, oppure ci sono proprio anche i cascioni che dentro c'è l'hamburger e tante altre, e beh, insalate particolari e tutto quello che si vuole mettere dentro la piadina. Il vostro strap è invece da chi è composto, chi lavora qua dietro al Mattarello? Allora, abbiamo 6-7 persone che vanno dai 22 anni fino ai 50 anni, quindi c'è un bel equilibrio tra molta esperienza e tra ragazze che vogliono, e ragazzi che vogliono fare, imparare. San Marinesi, ma anche italiani, e poi ci sono anche io, che sono il titolare, che sono quello che, diciamo, gestisce il locale. Quali obiettivi avete per la vostra attività e avete qualche evento che proponete ogni tanto, una serata? Allora, per quanto riguarda eventi e serate, per il momento no. C'è sempre, c'è l'idea magari di poi preparare qualcosa e chissà, vedremo. E quello che noi puntiamo per il futuro, l'obiettivo che abbiamo, è quello che comunque abbiamo sempre, è quello di dare al cliente massima qualità e un buon prodotto. Questo qui è quello che noi facciamo, perché è un lavoro che ci piace fare, quindi vogliamo continuare a dare quello che stiamo dando, un'ottima qualità. Certo. E perché invece bisogna venire al vostro ristorante? Cosa pensate di offrire in più? Perché il nostro prodotto fa bene allo spirito e all'anima. E come dicevo prima, ci mettiamo qualità, quindi il cliente viene qua e ci teniamo a farlo mangiare bene e anche cocolarlo. Certo. Vi ringrazio Gigi di essere stato ospite qui con noi a Ristoraggio San Marino, con il Mattarello. Buon proseguimento su Radio Web in Volo.